Ciao carissimi, siamo qui a ricordarvi della nostra conferenza dal 3 al 5 ottobre, una conferenza nella quale ricorderemo e celebreremo i nostri vent'anni di ministero e per la quale abbiamo invitato ospiti speciali come Tony e Pazzi Camonenti. Purtroppo Tony non potrà venire per i impegni in Australia ma avremo Pazzi e chi ha avuto il privilegio di conoscere questa coppia di ministri, questo ministero sicuramente non è rimasto indifferente. Noi abbiamo conosciuto Tony e Pazzi nel 1993 in Sicilia quando sono venuti come missionari in Italia per fondare la scuola biblica, una scuola biblica che aveva come messaggio portante il messaggio dell'area il messaggio della fede che è stato scolpito nei nostri cuori. Attraverso le loro vite noi abbiamo avuto la possibilità di vedere come il messaggio può diventare una stessa cosa col messaggero. Quindi sono state persone che hanno lasciato un segno profondo nella nostra vita, che ci hanno aiutato, ci hanno equipaggiato per il ministero e per questo siamo veramente felici e onorati di poter avere pazzi qui con noi. Quindi il nostro invito è per tutti quelli che l'hanno conosciuta, per tutti quelli che vorrebbero conoscerla, di partecipare a questa conferenza e di venire a celebrare insieme a noi i nostri vent'anni di ministero. Sarà una grande festa, un grande evento, una grande opportunità anche di poterci rivedere, riabbracciare e quindi vi aspettiamo con gioia e dirvi benedica. Grazie.